Bene, in questa lezione vedremo l'esercizio 5. Realizzare il gioco indovina numero. In particolare l'operazione matrandom genera un numero casuale tra 0 e 1. Occorre scalare il numero in un numero tra 0 e 100 e quindi l'operazione matseal, che sta per sealing, soffitto in inglese, arrotonda il numero in eccesso. Quindi chiedere all'utente di indovinare il numero e ad ogni tentativo il computer dice se il numero inserito dall'utente è troppo alto o troppo basso. Copiamo il testo, andiamo in Eclipse e creiamo un nuovo file HTML che chiamiamo esercizio 5. Dentro al tag script inseriamo appunto il nostro commento. Ok Allora, come prima cosa dobbiamo generare il numero random Quindi ad esempio proviamo a fare var r uguale a math punto random E stampiamo intanto questo numero Salviamo Apriamo la pagina Scusate Col browser E vediamo che lui genera appunto dei numeri random tra 0 e 1 in questo caso A questo punto Possiamo scalare il numero da 0 a 100 E, come dicevamo prima, arrotondarlo in eccesso Ok Quindi questo è il numero da indovinare Lo nascondiamo ovviamente E a questo punto iniziamo con un ciclo for Supponiamo di dare all'utente 10 tentativi For i uguale a 0, i minore di 10, i più più Var t tentativo E uguale a prompt Vediamo subito un aspetto molto importante Supponiamo di voler adesso stampare il tentativo che l'utente ha inserito Vediamo il risultato Inserisci il tentativo 0, 5, 6, 6, 6 Vedete che non sta Non stanno funzionando le document.write Ok 7, 8, 9, 7 Ok Alla fine stampa tutti i tentativi che ho fatti in un unico colpo Questo è perché i browser moderni Come ad esempio in questo caso Chrome Quello che sto usando Hanno questa particolarità Quando Quando nel programma compare una document.write Il programma non modifica immediatamente la finestra del browser Ma salva la cosa che deve essere stampata in un buffer In un'area di memoria Solo quando il programma termina l'esecuzione Tutte le informazioni che erano in quest'area di memoria In questo buffer Vengono mandati verso il browser E quindi la pagina si modifica tutto ad un colpo Questo ovviamente per noi non va bene Perché si perde il discorso delle interattività A quel punto Soltanto alla fine dell'esecuzione Io vedo quello che sta succedendo Ok Per ovviare a questo problema Semplicemente utilizzeremo Anziché un document.write Un console.log Ok Quando faccio console.log In questo caso devo attivare Un po' scomodo perché Ok Le prompt mi hanno fregato Devo attivare la console di sviluppo fin dall'inizio Ricarico la pagina A questo punto posso mettere Tentativo primo 3 4 5 E vedete che in questo caso Nella console Compaiono i vari tentativi Che sto facendo in tempo reale D'accordo Ok Quindi In questo caso la console mi permette interattività Cioè io vedo cosa è successo E a questo punto Posso inserire un ulteriore tentativo D'accordo Da un punto di vista del nostro programma Questo è un po' più brutto Sarebbe più bello vedere i dati Direttamente sulla finestra principale E non sulla console di sviluppo Però Visto che in questo caso Visto che questo genere di programmi Noi lo stiamo facendo adesso Per impratichirci con il linguaggio Ma non è questo L'ambito in cui utilizzeremo javascript Per adesso ci va bene Di fare in questo modo Cioè Quando un programma interattivo Viste le problematiche Del document.write Stamperemo il risultato Su console Per permettere appunto L'interattività Questo perché appunto Stiamo soli Impratichendoci Con il linguaggio Vedremo successivamente Come utilizzare queste cose Veramente Con appunto L'interfaccia web E tutto Quindi Detto questo Possiamo andare avanti Abbiamo la variabile t A questo punto Possiamo verificare le condizioni Se t è maggiore di r Allora potremo scrivere Troppo alto Se t È minore di r Potremmo scrivere Troppo basso Potremmo mettere tipo Else if Else Else t è per forza Uguale ad r Quindi possiamo creare Una variabile qui Vinto Che sarà inizialmente false Se ho trovato l'uguaglianza Invece posso mettere Vinto uguale a true Alla fine del ciclo for Avrò un altro if Che dice Se ho vinto A questo punto Potremmo mettere Sia console.log Che document.write Stiamo sempre nella console Console.log Hai vinto Else Console.log Hai perso Salviamo E carichiamo la pagina Diamo il primo tentativo 50 Troppo basso 70 Troppo alto 60 Troppo alto Qua vedete che Una particolarità Della console di Chrome È che Se ci sono Se la console Riporta due string Esattamente uguali Non le scrive due volte Ma Le fa vedere Con questo Due è qui Ok Di nuovo Javascript non andrebbe usato In questo contesto Ok Servirebbe per fare Altri tipi di applicazioni Noi lo stiamo usando così Per impartichirci con il linguaggio Quindi Tutte queste peculiarità Particolarità Per adesso le ignoriamo Quindi eravamo a 60 Mi sembra che fosse ancora troppo alto 55 È ancora troppo alto 52 È ancora troppo alto 51 Beh 51 è ancora troppo alto 50 È troppo basso Che strano Se adesso fosse qualcosa Che non va Ok Il fatto è che Quando indoviniamo Il numero Ovviamente Dobbiamo uscire Non dobbiamo più Chiedere dei numeri L'utente Altrimenti Lui continuerebbe A chiedere dei numeri Nonostante Abbia impostato Vint Uguale a true E quindi Qui dobbiamo mettere Un break Era questo Il comportamento Strano Che avevamo verificato Quindi riproviamo 50 è troppo alto 25 È troppo basso 35 È troppo alto 30 È ancora troppo alto 27 È troppo basso 28 Hai vinto Ok Quindi Questo è il nostro Programma JavaScript Lo dico L'ultima volta Quando ci sono Dei programmi interattivi Usiamo Console.log Per il problema Del buffer Di document.write Che modifica La pagina Solo al termine Di tutto Il programma JavaScript E quindi Non permette All'utente Di realizzare Appunto L'interazione All'utente All'utente All'utente